Francesco De Gregori, figlio del bibliotecario Giorgio e dell'insegnante di lettere Rita Grechi, ricevette il nome di battesimo in memoria di suo zio paterno, Francesco De Gregori, ufficiale degli Alpini e partigiano vicecomandante delle Brigate Osoppo, ucciso a Porzus nel 1945 dai partigiani comunisti delle Brigate Garibaldi. A causa della professione del padre trascorse i primi dieci anni della sua vita a Pescara per poi tornare a Roma. Frequenta il liceo classico Virgilio e successivamente inizia un corso universitario, anche se non completa gli studi laureandosi. Pur completando gli esami e concordando la tesi di laurea con Renzo De Felice, non riuscì a terminarla. A 15 anni, nel 1966, insieme al padre e al fratello Luigi Grechi, anche lui futuro cantautore, che userà il cognome materno come nome d'arte, si recò a Firenze per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione. Nel 1966 iniziò anche a suonare la chitarra. Il primo brano che imparò fu Il ragazzo della via Gluck di Celentano. La sua prima composizione originale di quel periodo racconta la storia di un disoccupato che sale sul Colosseo cercando lavoro, ma scivola e muore. Grazie al fratello Luigi, il giovane Francesco inizia a esibirsi pubblicamente. Luigi, con il nome d'arte di Ludwig, si esibisce regolarmente al folk studio, cantando canzoni tradizionali americane e sue composizioni. All'inizio del 1969, Francesco mostrò a Luigi una nuova canzone che aveva scritto, intitolata Buonanotte Nina, con gli accordi presi da una canzone di Fabrizio De Andrè, ma eseguiti in ordine inverso. Luigi imparò la canzone e la eseguì con successo al folk studio. Anni dopo la registrerà nel suo primo album, Accusato di libertà, proponendo poi a Francesco di cantarla la domenica seguente. Al folk studio De Gregori incontra numerosi musicisti, tra cui Caterina Bueno, Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Giovanna Marinuzzi, con la quale avrà un breve flirt, menzionato successivamente nella sua canzone Niente da capire, Ernesto Bassignano, Edoardo De Angelis e Giorgio Locascio. Con quest'ultimo forma brevemente un duo chiamato Francesco e Giorgio, fortemente influenzato dal sound di Simon & Garfunkel. Il loro repertorio includeva canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen. Sempre con Locascio, insieme a Antonello Venditti ed Ernesto Bassignano, Francesco si esibisce al folk studio nel programma I giovani del folk. Il quartetto viene ricordato anche da Antonello Venditti nei versi celebri di Notte prima degli esami. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Suonando al folk studio, De Gregori conosce anche Caterina Bueno, alla quale dedicherà anni dopo la canzone Caterina nell'album Titanic. Caterina cerca un chitarrista per l'estate e Giovanna Marini suggerisce proprio De Gregori che accetta. Da questa collaborazione nasce la prima tournée del giovane cantante romano in Toscana. È interessante notare che la Bueno insisteva nel dividere la paga di ogni concerto in tre tra lei e i suoi due chitarristi. La prima recensione di un concerto di De Gregori è del 23 maggio 1971 al folk studio, caratterizzata da un vistoso errore nella trascrizione del titolo della sua canzone Signora Aquilone che venne riportato come La signora Piloni nell'articolo, suscitando l'irritazione del giovane cantante. Alla fine del 1971, Francesco De Gregori e Giorgio Locascio ottengono un'audizione con la casa discografica IT, grazie all'intercessione di Giovanna Marini. Durante il provino registrano una lacca con quattro canzoni. Il partigiano, una cover in italiano di The Partisan di Leonard Cohen e Dolce signora che bruci, cantate insieme. Ho cercato di dirti, cantata da Locascio e Signora Aquilone, cantata da De Gregori. Vincenzo Micocci, colpito dai brani, propone loro un contratto discografico. Tuttavia, prima ancora di iniziare ufficialmente, il loro sodalizio artistico si interrompe. Secondo quanto raccontato da Locascio nel suo libro su De Gregori, ci furono divergenze riguardo alla realizzazione degli arrangiamenti, ma il pretesto della separazione fu un viaggio premio in Ungheria, che Locascio rinunciò a fare per organizzare il suo matrimonio. De Gregori offrì il viaggio ad Antonello Venditti, che accettò, e durante questo viaggio decisero di formare un duo. Insieme scrissero la canzone In mezzo alla città e realizzarono l'album Theorius Campus, pubblicato nel giugno del 1972. L'album includeva brani come La Casa del Pazzo, scritta da De Gregori insieme a Locascio. Il titolo dell'album, Theorius Campus, divenne anche il nome del duo, poiché sulla copertina non comparivano i nomi dei due cantautori. L'album raccoglieva alcune delle canzoni già presentate al folk studio, tra cui Signora Aquilone e Dolce Signora che bruci di De Gregori, insieme a brani di venditti come Roma Capoccia, Sora Rosa e Ciao Uomo. Negli anni successivi l'album è stato ristampato anche con il nome Roma Capoccia. Nel 1972 De Gregori inizia anche a collaborare con Edoardo De Angelis per i suoi primi due album da solista, Alice non lo sa e Francesco De Gregori. Inoltre collabora con De Angelis per il lancio di giovani artisti della IT come Amedeo Minghi, scrivendo alcuni testi per il suo album di debutto del 1973. In questo periodo avviene anche il primo incontro di De Gregori con Lucio Dalla, descritto dallo stesso De Gregori come un incontro immediatamente amichevole e affascinante. Francesco De Gregori, spinto dai meccanismi della promozione musicale, decide di partecipare alla popolare manifestazione Un Disco per l'Estate con la canzone Alice nel 1973. Nonostante si classifichi all'ultimo posto, questa operazione riesce a garantire al suo primo album da solista, Alice non lo sa, una minima visibilità che ne favorisce la promozione. L'album suscita un vivace dibattito tra la critica musicale per la sua vena ermetica. De Gregori appare come una presenza fragile, caratterizzata da un modo di cantare ancora delicato e sognante, ma al contempo partecipe delle emozioni che trasmette attraverso le sue canzoni. La sua voce flebile ma penetrante intona parole sfuggenti ma evocative, tratteggiando un panorama che spazia dalle riflessioni sul XX secolo, 1940 e Saigon, a temi più esistenziali come In la casa di Hilde. Inizia anche a delinearsi il suo stile distintivo nel ritratto femminile, presente in brani come Alice e Irene. Nonostante la complessità e la profondità dell'album, Alice non lo sa, non ottiene un consenso unanime dal pubblico. Successivamente, De Gregori si trasferisce dalla Hit alla RCA italiana, con un contratto significativo. Il suo secondo album, semplicemente intitolato Francesco De Gregori, viene talvolta soprannominato l'album della pecora, a causa della copertina disegnata da Gordon Faghetter, batterista dei Cyan 3 e primo marito di Patty Bravo. La copertina raffigura un agnello pasquale con le gambe raccolte a reggere un lungo bastone, sul quale sono visibili le iniziali di Francesco De Gregori. Questo album continua sulla linea del precedente, contesti altamente complessi e introspettivi, arricchiti da arrangiamenti più curati e sperimentali. Nonostante ciò, De Gregori stesso considerava questo periodo uno dei più critici della sua carriera, definendo Francesco De Gregori, 1974, come il suo disco peggiore in quel momento. Il grande successo arriva con Rimmel, nel 1975, uno dei dischi più venduti del decennio, che include brani come l'omonima Rimmel, Pablo, scritta con Lucio Dalla, Quattro cani e Pezzi di vetro. Renzo Zenobi, chitarrista che aveva già collaborato nei due album precedenti, contribuisce al disco con diverse parti solistiche di chitarra. De Gregori racconta la loro collaborazione dicendo «Il mio primo vero chitarrista è stato Renzo Zenobi, che suonava in modo impeccabile e mi incoraggiava sempre a migliorare la mia tecnica chitarristica. Mentre lui eseguiva fingerpicking impeccabili, io lottavo per tenere il passo con lui, spesso dimenticando pezzi degli arpeggi. Mi ha dato una grossa mano negli album Alice non lo sa e Rimmel, dove ha suonato tutte le chitarre acustiche. Nello stesso anno De Gregori ha prodotto l'album di debutto di Zenobi a Silvia. Durante il 1974 De Gregori ha anche iniziato una collaborazione significativa con Fabrizio De Andrè, che ha avuto inizio dopo che De Andrè aveva sentito De Gregori cantare una parodia di La guerra di Piero, chiamata la cacca di Piero al folk studio. Questa collaborazione ha portato alla traduzione italiana di Desolation Row di Bob Dylan e alla coscrittura di brani inediti per l'album successivo di De Andrè, volume 8. Durante questo periodo De Gregori ha trascorso del tempo in gallura nella villa di De Andrè, da cui sono nate canzoni come Oceano, La cattiva strada, Dolce luna e Canzone per l'estate. Successivamente De Gregori ha continuato la sua carriera con Buffalo Bill, nel 1976 album che ha visto la collaborazione con Lucio Dalla nella canzone Giovane esploratore Tobia e la partecipazione di Ivan Graziani alla chitarra nella title track. Nella primavera del 1976 De Gregori intraprese una nuova tournée che partì da Pavia il 1 aprile, la seconda tappa era prevista per il giorno successivo al Palalido di Milano con due concerti, uno pomeridiano e uno serale. Durante quest'ultimo alcuni ragazzi appartenenti ai collettivi politici studenteschi, tra cui Gianni Mucciaccia dei Caos Rock e Nicoletta Bocca, figlia del giornalista Giorgio Bocca, salirono più volte sul palco interrompendo il concerto. Leggevano al pubblico un comunicato contro l'arresto di un militante della sinistra extraparlamentare a Padova e contestavano De Gregori, accusandolo di autoproclamarsi di sinistra mentre viveva uno stile di vita lussuoso e strumentalizzava temi cari alla sinistra per arricchirsi. Dopo aver eseguito alcune canzoni sottotono e controvoglia, alle 22.30 De Gregori, secondo quanto riportato da Mario Luzzatto Fegiz sul Corriere della Sera, decise di interrompere l'esibizione. Tuttavia i contestatori minacciarono ulteriori tumulti e lo costrinsero con una pistola a tornare sul palco per rispondere pubblicamente alle loro domande. De Gregori fu oggetto di una lunga serie di domande e accuse, tra cui frasi come «Quanto hai preso stasera?» e «Se sei un compagno, dimostralo con i fatti, lascia qui l'incasso». Dopo circa 20 minuti di questo interrogatorio, la polizia fece irruzione nel palalido lanciando fumogeni per disperdere i contestatori. De Gregori, commentando l'evento, scrisse in una lettera a Musac nell'aprile 1976 che i suoi contestatori avevano commesso un grave errore politico, contribuendo involontariamente a rafforzare l'establishment musicale e culturale dominante. Criticò anche la stampa scandalistica che aveva strumentalizzato l'incidente. In seguito, in un'intervista del 1990 a Ciao 2001, De Gregori affermò di avere la sensazione che quei ragazzi, nonostante tutto, lo amassero e che lui fosse dalla loro parte. Questo episodio ispirò diversi cantautori italiani, tra cui Roberto Vecchioni e Edoardo Bennato, nel trattare tematiche simili nelle loro canzoni. Nonostante l'esperienza traumatica, De Gregori tornò sul palco nell'autunno del 1976 per una serie di concerti in Italia, mantenendo un profilo basso e con una nuova formazione. Il 10 marzo 1978, Francesco De Gregori si sposa con Alessandra Francesca Gobbi, sua compagna di liceo. Walter Veltroni, all'epoca segretario della FGCI, fu testimone di nozze. Pochi mesi dopo nascono i due gemelli Marco e Federico. Lo stesso anno, De Gregori ritorna sulla scena musicale con l'album omonimo De Gregori, che contiene la celebre canzone Generale. L'8 luglio 1978, De Gregori tiene un concerto molto acclamato allo Stadio Flaminio di Roma, insieme a Lucio Dalla, evento organizzato proprio da Walter Veltroni, con circa 40.000 spettatori presenti. Questo concerto segna l'inizio di una fortunata collaborazione, che porterà i due artisti a una tournée insieme l'anno successivo. Nel dicembre del 1978, De Gregori e Dalla pubblicano il singolo Ma come fanno i marinai, nato casualmente durante un pranzo insieme. Questo brano segna l'inizio di una collaborazione più stretta tra i due artisti. Nell'estate del 1979, De Gregori e Dalla intraprendono la monumentale tournée Banana Republic, documentata successivamente in un film e un disco che vende 500.000 copie. Questa tournée segna un momento rivoluzionario per la musica italiana, portando la musica d'autore per la prima volta negli stadi italiani e creando un legame profondo tra cantautori e pubblico. Il successo di Banana Republic anticipa l'enorme affluenza di pubblico che caratterizzerà i concerti di artisti come Claudio Baglioni, Vasco Rossi e Ligabue negli anni successivi. Il disco live della tournée presenta dieci canzoni, alcune cantate singolarmente e altre in duetto, inclusi brani come la cover di Banana Republic di Steve Goodman e Un gelato al Limon di Paolo Conte, reinterpretata in chiave rock. La collaborazione tra De Gregori e Dalla continua con partecipazioni reciproche nei rispettivi album, come nel caso di Viva l'Italia di De Gregori nel 1979 e nel contributo a Una città per cantare di Ron nel 1980. Nonostante poi i due artisti si separino musicalmente, rimane vivo il ricordo di questa collaborazione epica che ha segnato un'era nella musica italiana. Nel 1980 Francesco De Gregori ha la sua prima esperienza al Festival di Sanremo come autore, scrivendo il testo della canzone Mariu su musica di Ron, interpretata da Gianni Morandi e classificatasi al quarto posto nella manifestazione. Dopo una pausa di tre anni, De Gregori torna nel 1982 con l'album Titanic, seguito dal successo del mini-LP La Donna Cannone l'anno successivo. Quest'ultimo contiene tre brani composti per il film Flirt di Roberto Russo, tra cui la celebre title track e gli strumentali Flirt VV1 e Flirt VV2. Conquistato il favore della critica e del pubblico, De Gregori continua la sua carriera con lavori significativi come Scacchi e Tarocchi nel 1985, che include il brano noto La Storia, interpretato l'anno precedente da Gianni Morandi, e Appà, dedicato a Pier Paolo Pasolini. Successivamente passa alla CBS e nel 1987 pubblica Terra di Nessuno, che contiene brani come Mimissara. Il 26 giugno 1989, De Gregori partecipa a un concerto allo Stadio Braglia di Modena insieme a Joan Baez e Tracy Chapman per raccogliere fondi destinati alla costruzione di un ospedale in Armenia. Durante questo concerto, De Gregori e Baez eseguono insieme anche The Boxer, di Simon & Garfunkel. Nonostante le delusioni politiche dovute alla caduta del comunismo e alla crisi del PCI, De Gregori continua il suo impegno politico e sociale. Nel 1989 pubblica l'album Miramare 19-4-89, che affronta temi come la mafia, la droga e l'aborto con un approccio poetico e civile. In questo periodo, De Gregori inizia anche la collaborazione con Zucchero Fornaciari, scrivendo il testo del brano Diamante, incluso nell'album Oro, Incenso e Birra del 1989 di Zucchero. Negli anni 90, Francesco De Gregori ha pubblicato diversi album significativi e ha consolidato la sua posizione di cantautore di spicco nella musica italiana. Nel 1990, la sua casa discografica pubblica contemporaneamente tre album live, Catcher in the Sky, Niente da capire, e Musica Leggera, che raccolgono registrazioni degli anni precedenti. Questi album testimoniano la sua abilità nel reinterpretare le proprie canzoni in una dimensione dal vivo. Due anni dopo, nel 1992, esce l'album di studio Canzoni d'amore, contrariamente a quanto suggerisce il titolo, contiene principalmente brani che riflettono sul concetto di amore verso la propria patria. La canzone principale dell'album è Bell'amore, dedicata all'amore per una donna, mentre altre tracce come Tutto più chiaro che qui sono un tributo al padre di De Gregori. Nel 1993, De Gregori pubblica in live Il bandito e il campione, che include l'omonimo brano scritto dal suo fratello Luigi Grechi e cover di successo come Vita spericolata di Vasco Rossi e Sfiorisci Belfiore di Enzo Iannacci. Questo album ottiene un grande successo commerciale, vendendo centinaia di migliaia di copie e, diventando una fonte di ispirazione per la fiction televisiva, la leggenda del bandito e del campione della Rai. Sempre nel 1993, De Gregori pubblica Bootleg, un altro album live dove introduce per la prima volta brani come Mannaggia alla musica, e omaggia Lucio Dalla con una cover di Anidride Solforosa, eseguita in duetto con Angela Baraldi, che apriva i suoi concerti in quel periodo. Nel 1994, De Gregori fa una particolare apparizione come Session Man nella prima puntata del varietà televisivo Tunnel di Serena Dandini e Corrado Guzzanti, mantenendo segreta la sua identità fino ai titoli di coda della trasmissione. Nel 1995, De Gregori collabora nuovamente con Zucchero Fornaciari scrivendo il testo della canzone Pane e Sale, inclusa nell'album di Zucchero Spirito Divino. Il 1996 segna il ritorno di De Gregori con l'album Prendere e Lasciare, prodotto con gli arrangiamenti di Corrado Rustici. Nonostante il buon successo commerciale, l'album è stato oggetto di critiche, soprattutto per il brano L'agnello di Dio, che ha attirato l'attenzione della Chiesa per il suo contenuto controverso. Nel 1997, De Gregori pubblica il doppio live La Valigia dell'attore, che include il brano omonimo e altri due inediti. La canzone Non dirle che non è così, una cover di If You See Her Say Hello di Bob Dylan, viene premiata con la Targa Tenko come miglior canzone dell'anno 1998. La notte di Capodanno tra il 1997 e il 1998, De Gregori è protagonista di un concerto televisivo insieme a Lucio Dalla ad Assisi, trasmesso in diretta su Rai 1. Durante questo evento, De Gregori e Dalla eseguono insieme alcuni dei loro successi, culminando con la loro collaborazione su Cosa Sarà, sull'album Amore nel pomeriggio, caratterizzato da collaborazioni significative negli arrangiamenti con artisti come Franco Battiato e Nicola Piovani. Questo disco ha ricevuto la Targa Tenko come miglior opera dell'anno a pari merito con Canzoni a manovella di Vinicio Capossela, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel panorama musicale italiano. Nel dicembre 2001, De Gregori è stato ospite allo show televisivo di Ron su Rai 2, esibendosi con la canzone Battere e Levare. Nel 2002 ha intrapreso una importante tournée insieme a Ron, Fiorella Mannoia e Pino Daniele, quattro artisti che hanno condiviso il palco per la prima volta dopo più di vent'anni. Questa tournée ha ricevuto ottimi riscontri di pubblico e critica, culminando nel doppio album live In Tour, registrato durante i concerti in alcuni dei luoghi più prestigiosi d'Italia. Sempre nel 2002, De Gregori ha pubblicato insieme a Giovanna Marini l'album Il fischio del vapore, dedicato ai canti popolari e sociali italiani. Questo lavoro ha ottenuto una sorprendente affermazione di vendite e ha vinto la Targa Tenko nella categoria interpreti, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di esplorare diversi generi musicali. Nel 2003 è stata pubblicata la biografia ufficiale di De Gregori, intitolata Quello che non solo so cantare, scritta da Enrico De Regibus ed edita da Giunti. Sempre nel 2003, De Gregori ha partecipato al film di Bob Dylan, Masked and Anonymous, dove ha eseguito la cover Non dirle che non è così, già presente nel suo album live La valigia dell'attore. Nelle note della colonna sonora del film, Bob Dylan ha descritto De Gregori come la leggenda della musica leggera italiana, riconoscendo il suo talento e la sua influenza nel panorama musicale. Nello stesso anno, De Gregori ha scritto il testo di Io e mio fratello, musicato da Antonello Venditti, e i due hanno eseguito insieme la canzone nel disco di Venditti intitolato Che fantastica storia è la vita. Il 1 maggio 2003, De Gregori ha partecipato per la prima volta al concerto del 1 maggio, uno degli eventi musicali più importanti in Italia. Nel novembre 2004 è uscito il libro Parole e canzoni, curato da Vincenzo Mollica per Einaudi Stile Libero, che raccoglie l'opera di De Gregori dai suoi 20 ai 50 anni, accompagnato da un DVD. Questo progetto ha fornito una panoramica completa della carriera del cantautore fino a quel momento. Nel 2005, Francesco De Gregori ha continuato a consolidare la sua carriera con l'uscita dell'album Pezzi, che ha ricevuto nuovamente la Targa Tenko come miglior album dell'anno. Il singolo Gamba di legno a Parigi è stato votato come miglior canzone dell'anno dai lettori del quotidiano La Stampa. L'album è stato ben accolto sia dal pubblico che dalla critica, posizionandosi come il 27esido disco più venduto in Italia nel 2005. Un momento significativo per De Gregori è stato il 2 luglio 2005, quando è stato il primo musicista al mondo a esibirsi nel Live 8. Ha aperto la manifestazione mondiale con L'agnello di Dio, seguito da La Donna Cannone, e ha concluso con una versione riarrangiata de La Storia. Nel febbraio 2006, a soli 11 mesi dall'uscita di Pezzi, De Gregori ha sorpreso ancora una volta pubblicando l'album Calypsos. Questo album presenta nove brani inediti, con sonorità più dolci e melodiche rispetto ai suoi lavori precedenti, tornando anche al tema delle canzoni d'amore. Brani significativi includono Cardiologia e Per le strade di Roma, che è stato paragonato a Streets of Philadelphia, di Bruce Springsteen per il suo ritratto della vita urbana contemporanea. Nel novembre 2006 è stata pubblicata una tripla antologia dalla Sony che raccoglieva i brani più rappresentativi della carriera di De Gregori, tra cui Diamante, scritta per Zucchero Fornaciari, una demo del 1979 di Mannaggia alla musica e il B-side di Viva l'Italia, la celebre Banana Republic. L'anno successivo, nell'autunno del 2007, De Gregori ha pubblicato un CD DVD live intitolato Left and Right Documenti dal Vivo, che documenta il suo tour invernale negli stadi italiani. Nel 2008 De Gregori ha continuato la sua attività musicale con il tour teatrale e ha pubblicato l'album Per brevità chiamato artista, presentato in anteprima alla trasmissione televisiva Che Tempo che fa. Sempre nel 2008 il cantautore Mango ha inciso una reinterpretazione de La Donna Cannone nel suo album Acchiappanuvole. Il 30 settembre 2010, a Lampedusa, De Gregori si è esibito in un concerto sulla spiaggia della Guigia durante la manifestazione O'SHA, cantando da solo alla chitarra o al pianoforte alcuni dei suoi brani più famosi insieme a Claudio Baglioni. Questo ha segnato la prima volta che i due cantautori, entrambi romani e coetanei, hanno duettato sullo stesso palco dopo 40 anni di carriere parallele. Nel periodo che segue la fine del primo decennio degli anni 2000, Francesco De Gregori inizia un processo di ringiovanimento artistico, ritornando alle sue radici musicali e esplorando nuove sonorità. Una delle collaborazioni più significative di questo periodo è con Lucio Dalla, con il quale De Gregori si riunisce dopo oltre 30 anni dal loro celebre album Banana Republic. L'anno 2010 segna il ritorno dei due artisti sul palco, con un concerto intitolato Work in Progress al Vox Club di Nonantola. Questo concerto, originariamente previsto come singola esibizione, riscuote un grande successo di vendite e apre la strada a una serie di concerti insieme, tra cui cinque date a Milano e Roma, tutte sold out. Durante questi concerti, De Gregori e Dalla non solo ripropongono le loro canzoni più famose, ma presentano anche un inedito intitolato Non basta saper cantare. Annunciano inoltre l'intenzione di pubblicare un nuovo album insieme, anch'esso intitolato Work in Progress. Questo album, contenente 29 tracce che attraversano l'intera storia musicale dei due cantautori, include anche tre brani inediti, tra cui Gran Turismo e una versione italiana di Gigolo, originariamente scritta da Julius Brammer. La decisione di non includere Ma come fanno i marinai, canzone simbolo del loro precedente tour, nella scaletta del nuovo concerto è simbolica. Dimostra l'intenzione di De Gregori e Dalla di non riproporre semplicemente il passato, ma di creare qualcosa di nuovo e significativo nella loro carriera. Questo periodo non è solo caratterizzato dalle performance live, ma vede anche De Gregori più aperto e disponibile a raccontare se stesso e la sua musica, come documentato nel docufilm Finestre rotte di Stefano Pistolini, uscito nel 2012. Questo film mostra un lato più personale e riflessivo di De Gregori, mostrando momenti che vanno oltre il mondo della musica. In sintesi, questo periodo segna un ritorno alle origini per De Gregori, ma con una fresca prospettiva e un nuovo entusiasmo artistico, alimentato anche dalle collaborazioni significative come quella con Lucio Dalla. Nel 2009, in occasione del concerto di Lucio Dalla a Piazza Castello di Solferino, Francesco De Gregori sorprende il pubblico facendo una comparsa speciale sul palco. Questo evento segna un momento significativo di riavvicinamento tra i due artisti, a 30 anni esatti dalla loro storica tournée Banana Republic. Durante il concerto, De Gregori duetta con Dalla cantando Santa Lucia, una canzone che quest'ultimo ha sempre ammirato profondamente, definendola una delle più belle del dopoguerra e confessando di essersi commosso alla prima ascoltata. Questa esibizione è vista come un segno premonitore della loro futura collaborazione, che si concretizza l'anno successivo con la conduzione della trasmissione televisiva RAI 2 intitolata 2. Durante questo periodo, i due artisti non solo si esibiscono insieme in televisione, ma avviano anche il Work in Progress Tour, un tour che si distingue per l'esibizione non più negli stadi ma nelle piazze e nei luoghi simbolici di tutta Italia. Il tour si protrae per oltre un anno, con più di 100 date quasi sempre sold out. Il punto culminante del tour avviene il 1 maggio 2011, quando Dalla e De Gregori si esibiscono al concerto del 1 maggio a Roma, ricevendo un'attenzione particolare per la lunghezza e l'importanza del loro set. Il tour si conclude con un ultimo concerto il 20 maggio 2011 a St. Vincent, segnando la chiusura di un capitolo significativo nella loro carriera musicale condivisa. Nel periodo successivo, De Gregori continua a essere attivo nella scena musicale, pubblicando nel 2012 l'album dal vivo Pubs and Clubs, Live at the Place, registrato a Roma e collaborando con Ambrogio Sparagna per l'album Vola, 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 che include anche duetti con la cantante napoletana Maria Nazionale. Nel novembre 2012, De Gregori rilascia il suo diciannovesimo album in studio intitolato Sulla strada, caratterizzato da nove brani originali, tra cui duetti con Malika Ayane e la partecipazione di Nicola Piovani nella direzione degli archi. L'album ottiene un buon successo commerciale, diventando disco d'oro per le oltre 30.000 copie vendute entro marzo 2013. Nel 2012, durante la mostra del cinema di Venezia, viene presentato un film documentario intitolato Finestre rotte, diretto da Stefano Pistolini, che offre uno sguardo attuale su Francesco De Gregori. Il documentario non è biografico, ma segue De Gregori durante un'estate di concerti del 2011 e attraverso conversazioni in diverse parti d'Italia. Tra i colleghi musicisti che compaiono nel film ci sono Ambrogio Sparagna, Giovanna Marini, Cristina Donà e Vasco Brondi, le luci della centrale elettrica, con cui De Gregori ha suonato al Traffic Festival di Torino davanti a circa 50.000 persone l'anno precedente. Il documentario riflette su De Gregori come un artista meticoloso nei movimenti, nei ragionamenti e nelle sue espressioni artistiche. Viene descritto come qualcuno che colloca le sue canzoni come opere d'arte, con una esigenza di perfezione e di profondità nei suoi lavori. Stefano Pistolini, il regista, sottolinea l'importanza di filmare De Gregori con delicatezza e una complessa estetica visiva, riconoscendo la familiarità con la sua musica e la necessità di rispettare le sue prospettive artistiche. Nel periodo tra il 2012 e il 2013 De Gregori si cimenta anche nella conduzione di programmi radiofonici, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno nel mondo della comunicazione musicale. Ha preso il controllo di Radio Capital per un giorno nel dicembre 2012, curando la programmazione musicale e conducendo interviste. Successivamente è stato conduttore d'eccezione per una settimana su Radio 3 nel programma Hollywood Party, affiancato da Steve Della Casa. Musicalmente nel febbraio 2013, De Gregori sorprende il pubblico con una collaborazione inaspettata con il gruppo valdostano L'Orage, esibendosi al Palais Saint-Vancent e reinterpretando una selezione dei suoi brani in chiave folk rock. Questo evento evidenzia la continua evoluzione e la capacità di De Gregori di esplorare nuove sonorità e collaborazioni. Nel corso del 2013, De Gregori celebra il suo sessantaduesimo compleanno con un De Gregori Day speciale, ospitato al Circolo dei lettori di Torino, durante il quale presenta la Photo Edition di Sulla Strada e la nuova raccolta Oggi, disponibile inizialmente solo su iTunes. Continua a essere protagonista in eventi significativi come il Concerto del Cuore allo Juventus Stadium e i Wind Music Awards 2013 a Roma, dove viene premiato per il successo dell'album Sulla Strada. Inoltre la rivista TV Sorrisi e Canzoni, ripubblica 7 album e 2 DVD di De Gregori tra il 2002 e il 2013, con inclusi 9 brani inediti disponibili per il download dal suo sito ufficiale, anticipando un possibile nuovo album Unplugged 2.0. De Gregori continua ad essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, sia per il suo talento artistico, sia per la sua dedizione alla sua arte. Durante il periodo successivo alla sua temporanea lontananza dal pubblico, Francesco De Gregori ritorna con grande energia nel 2014 e 2015, con una serie di attività significative. Nel settembre 2014 De Gregori rilascia il singolo Alice, una collaborazione con Luciano Ligabue, che anticipa il suo nuovo album Viva Voce, programmato per l'uscita il 12 novembre dello stesso anno. Il video ufficiale di Alice viene trasmesso in televisione alcuni giorni prima, durante uno speciale su Ligabue, seguito da un'intervista con entrambi gli artisti. L'album Viva Voce presenta 28 brani rivisitati e segna un altro punto alto nella carriera di De Gregori. Contemporaneamente alla pubblicazione radiofonica di La Donna Cannone, secondo singolo estratto dall'album il 10 novembre 2014, De Gregori presenta Viva Voce in una puntata speciale di The Flight su RTL 102.5. Per promuovere l'album sceglie di intraprendere un in-store tour presso le librerie Feltrinelli, accompagnato da ospiti famosi come Giorgio Panariello a Milano, Checco Zalone a Bari, Nino D'Angelo a Napoli e altri ancora in varie città italiane. Questo tour è intervallato da concerti in Europa e da una serie di apparizioni televisive e radiofoniche, inclusa una partecipazione a X Factor. Nel dicembre 2014 De Gregori firma la colonna sonora del film Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese, guadagnandosi un nastro d'argento e una candidatura ai David di Donatello l'anno successivo. Questo periodo è anche segnato da un concerto speciale di Capodanno a Cosenza, sotto la neve, dalle 1 alle 3.00 di notte. L'11 marzo 2015, poco prima dell'inizio del Viva Voce Tour, la casa editrice Emons pubblica un audiolibro con De Gregori che legge America di Franz Kafka. Il Viva Voce Tour continua per tutto l'anno, portando De Gregori a esibirsi in numerosi luoghi iconici, come il Forum di Assago con Luciano Ligabue, la Piazza del Campidoglio a Roma durante le commemorazioni del 25 aprile e l'Arena di Verona, dove apre il concerto di Bob Dylan. Il tour culmina con un concerto sold out all'Arena di Verona denominato Rimmel 2015, celebrando i 40 anni dall'uscita dell'album Rimmel, con la partecipazione di ospiti illustri come Ligabue, Checco Zalone, Fedez, Elisa e molti altri. Nel frattempo, nell'estate 2015, De Gregori annuncia un nuovo album di traduzioni di canzoni di Bob Dylan, intitolato De Gregori canta Bob Dylan, Amore e furto, pubblicato il 30 ottobre dello stesso anno. Da questo album vengono estratti vari singoli come Un angioletto come te, Mondo politico e Come il giorno. Questo segna l'inizio del Amore e furto tour, che lo vede esibirsi in vari club e teatri d'Italia. Durante l'ultima tappa del tour a Taormina, registra il disco dal vivo Sotto il vulcano, Uscito nel 2017. Nel marzo 2016, Francesco De Gregori prende parte all'album di Duetti di Ron, intitolato La forza di dire sì. In questo album, De Gregori canta il brano I ragazzi italiani, scritto nel 1979 insieme a Lucio Dalla e lo stesso Ron. Nello stesso anno partecipa anche agli album di Enzo Avitabile, Fausto Leali ed Edoardo De Angelis, dove contribuisce anche come produttore nel brano Il cantautore necessario di De Angelis, cantando in La casa in riva al mare di Lucio Dalla. Il 2 dicembre 2016 esce Backpack, un cofanetto che raccoglie 32 suoi dischi accompagnati da un libro scritto da Enrico De Regibus. Successivamente, nel 2017, viene pubblicato un nuovo disco dal vivo intitolato Sotto il vulcano. Nel 2017, De Gregori trascorre la prima parte dell'anno lontano dalle scene, per poi programmare una serie di concerti in autunno, in Europa e negli Stati Uniti. Questi includono esibizioni in luoghi prestigiosi, come il Bataclan di Parigi, lo Shepherds Bush Empire di Londra e la Town Hall di New York, segnando la sua prima esibizione negli Stati Uniti in oltre 40 anni di carriera. Durante questi concerti presenta una formazione inedita, senza batteria e con pochi altri strumenti, sperimentata anche in piccoli concerti nazionali precedenti al tour. Questa nuova formazione viene poi proposta anche al pubblico italiano durante il tour estivo del 2018. Dal tour internazionale viene realizzato un film documentario intitolato Vero dal vivo. Nel frattempo, nel 2018, De Gregori collabora con Elisa nell'album Diari Aperti, duettando nel brano Quelli che restano. Partecipa anche al concerto evento di Antonello Venditti all'Arena di Verona, celebrativo dei 40 anni dell'album Sotto il segno dei pesci. Nel 2019 ritorna a collaborare con Zucchero Fornaciari nell'album Diocci, nel brano Tempo al Tempo. Il 10 dicembre 2021 pubblica in duetto con Gianna Nannini la cover di Diamante, originariamente scritta da lui e incisa da Zucchero Fornaciari. Il 12 marzo viene annunciata la pubblicazione del nuovo album, Pastiche, realizzato in collaborazione con Checco Zalone. La scaletta dell'album include nuove versioni di vecchi brani, cover dal repertorio di Paolo Conte, Antonello Venditti, Pino Daniele e un inedito. Grazie per le informazioni aggiuntive su Francesco De Gregori. Francesco De Gregori ha un fratello maggiore di nome Luigi, anche Egli cantautore, con il quale ha avuto collaborazioni professionali saltuarie. Possiede anche una piccola azienda a Sant'Angelo di Spello, in provincia di Perugia, gestita dalla moglie Alessandra Francesca Gobbi fino alla sua morte. L'azienda produce un olio etichettato Le Palombe, che ha ottenuto un riconoscimento significativo, piazzandosi al quinto posto nella classifica finale della quinta edizione del concorso Premio Biol, città di Andria. Dal punto di vista politico, in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera, il 31 luglio 2013, De Gregori ha dichiarato di aver votato Mario Monti alla Camera e Pierluigi Bersani al Senato nelle precedenti elezioni politiche. Pur definendosi di sinistra, ha sempre espresso ammirazione per i radicali, specialmente per Marco Pannella. Quest'ultimo è il destinatario della canzone Il Signor Hood, da lui scritta, con il sottotitolo AM con autonomia, contenuta nell'album Rimmel. Nel gennaio del 2003, De Gregori ha vinto una causa legale contro Vittorio Feltri e Paolo Giordano per un articolo pubblicato nel 1997 su Il Giornale. Inoltre, De Gregori ha ammesso che tra le canzoni che avrebbe voluto scrivere figurano Vita Spericolata di Vasco Rossi e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.